madonna musa è stato bravissimo lo so sono sempre stato il migliore arrivare ai comodini e appunto allora visto che ci stai ci sta ad aggiustare pure il bidet che naso mon vado subito tutto a posto che dici che ha fatto ciambellone madonna mi fammi stare zitta che se chi le sente ciambellone è la fine madonna mia si sta facendo la doccia ma quello c'è un fiuto e che tutti i caffagli si andrà a durare la coppa e non fa una cosa muovi il scufuoli tiramelo da un pezzetto o gli assaggiò facciamo tutto con l'ambra bravi città movem gaspita